Ad ulteriore precisazione delle dichiarazioni che ho oggi rilasciato sulle deleghe ai consiglieri della città metropolitana voglio chiarire che non si tratta dell'aggiunta, città metropolitana la giunta è rappresentata esclusivamente dal sindaco quindi si tratta di deleghe con riferimento alle funzioni che devono espletare i consiglieri metropolitani e che vengono dati a tutti i consiglieri metropolitani come se uno facesse un paragone, è un po' come il lavoro che fanno i parlamentari in Parlamento dove ci sono le commissioni e quindi tutti maggioranze e opposizioni stanno in tutte le commissioni quindi sono deleghe con riferimento a materie quindi nella città metropolitana non c'è maggioranza e non c'è opposizione quindi non è né una grande alleanza né un ingresso in giunta la giunta in città metropolitana è rappresentata esclusivamente dal sindaco che quindi qua non si tratta di, tra l'altro i consiglieri non possono avere l'autonomia come gli assessori ma fanno semplicemente un lavoro di istruttoria, di approfondimento poi alla fine gli altri fanno sempre esclusivamente il sindaco lo voglio chiarire perché non si tratta, visto quello che ho letto non si tratta né di giunta né di alleanze politiche ma semplicemente un modo per lavorare meglio tutti insieme in città metropolitana grazie a tutti